Ciao io sono Gio95 e qui ci troviamo in un nuovo video di BoomBeach Innanzitutto prima di iniziare volevo dirvi che mi dispiace non aver fatto Brawl Stars oggi Perché oggi avrei fatto Brawl Stars appunto Ma c'è stato un po' di casino e il video è stato molto confusionato Io ne approfitto non caricarlo anche se ho aperto 17 bauli ed era carino farvi il video su 17 bauli Ma ovviamente da me è il caos sereno quindi E cioè ho problemi Non ho potuto caricarlo perché appunto essendo un po' confusionante Non vi sarebbe piaciuto anche se hai aperto la bauli magari si Ma se c'è confusione non ci posso fare niente Comunque e vabbè naturalmente oggi andremo a maggio un altro potenziamento Quello precedente non ve l'ho fatto vedere che sarebbe lancio fiamma e 14 Sempre per motivi di registrazione che non mi ha registrato un bug di registrazione Quindi non l'abbiamo registrato E vabbè l'ho portato lancio fiamma e 14 e al 15 saremo il 4 di generale al 19 quindi devo aspettare Poi nell'assenale ho potenziato tutto quello possibile non posso potenziare nient'altro quindi devo aspettare il prossimo 4 di generale L'ultima cosa che sono rimaste da potenziare sono i mortai e le torri cerchini E oggi faremo i mortai Le potenziaremo al 17 giusto per fanno hanno più vite più danno Buone e più di esperienza E le portiamo al 17 E vabbè poi ci sarebbe mortai e altri 3 mortali a portare al 17 ma questi me le porterò off camera Il prossimo video che faremo lo vedrete direttamente sulla torri cerchini al 19 la prima E le altre invece sono Le farò off camera anche quelle Solo la prima difesa vi farò vedere in video Poi guardiamo qua se c'è qualcosa da fare No niente statue da fare Perché appunto essendoci l'achievement delle statue da fare Sia per i gemme e anche perché io voglio completare tutto il gioco Quindi fai tutti gli achievements se possibile le faccio Poi qua naturalmente la mercante mi ha offerto delle offerte e io me le sono prese Perché appunto non sapevo se oggi avrei raggiunto la quota di materiale apposta per fare il mortai da 17 Poi qua c'è una ricompensa del clan Io direi che prendo la pietra perché mi serve per fare i potenziamenti Quella che mi serve di più perché appunto è quella più lenta Non riesco a fare molta pietra rispetto al resto Tipo il ferro riesco ad arrivarsi abbastanza anche se comunque il ferro dovrebbe essere più raro ma ne faccio di più Poi lancio il shock a 4 che non risposeva l'11 Lancio il 39 Beh sono comunque tutte le difese potenziate al massimo con questo quartiere giornale al 18 Poi qua al 19 ci si può creare nuove difese Una nuova artiglieria se così si può chiamare Che si potrà far uscire quando attacchi E poi naturalmente dovremmo potenziare a livelli normali E vabbè naturalmente abbiamo anche il bengala a livello massimo 7 Il bomba shock a livello 6 massimo e la fumogena a livello 6 massimo Quindi sono tre cose che abbiamo al massimo quindi con il prossimo livello di quattro giornale non dovremmo potenziarli Detto questo direi di andare ad attaccare qua uscirà Naturalmente il mega granchio che dovremmo fare gli attacchi appunto per prendere le statue qua nell'angolo Che ci bloccheremo a livelli gradi superiore Naturalmente io solo con il primo trofeo sono uscito ad arrivare al ferro Perché essendo che hanno rifatto di nuovo i trofei precedenti Questo qua è uscito per primo E' uscito e io ho provato ad arrivare al livello 20 del mega granchio Che è abbastanza tosta lì da arrivarci Ho usato anche un po' di gemme appunto vedete che ho un po' di gemme in meno Solo per colsatolino Non per potenziarmi qualcosa con le gemme Perché io comunque non voglio potenziarmi per conto mio Anche se comunque ci metterò un po' di tempo ma lo voglio fare per conto mio Naturalmente ho preso quello di ferro ma quello di oro sappiate che a livello 40 è improponibile I 50 attacchi li ho usati tutti apposta per arrivare al ferro più di così non ci arrivo Magari a livello 65 ci potrei arrivare Magari ci posso arrivare speriamo di sì Allora oggi andremo ad attaccare questo qua Così vi faccio un attacco e vi faccio vedere che livello sono di potenza Naturalmente questo è a livello 31 quindi è un po' più semplice Attaccare Facciamo un po' di danno ovunque e poi dopo attacchiamo con le truppe Allora Ok Butta giù questo e questo Così non ci fanno i danni i cannoni che danno Sono quelli che fanno più danno Poi ci sarebbe il mortale e le trocecchiene ma Non abbiamo troppe Punti di energia per poterli attaccare Usiamo una bomba shock Perfetto Perfetto Ora quando avrò punti abbastanza Userò la furia Perfetto Fatta Adesso l'ho usata Adesso partiranno Un po' più alla carica Tutti su un municipio Quanto in generale Mi confondo un po' con Crash of Clans Allora Che Il fatto che io abbia cancellato il video di Brawl Stars Perché appunto c'era casino Non vuol dire che non c'era casino in questo video Spero di no Vi ho fatto un sacco di risorse Va bene Comunque naturalmente Cioè Qua Arrivo solo fino a livello 3 A livello 4 Cominciano a mettere le Le cose dell'assenale Questo Del laborato delle almi E sono un po' difficile da buttare giù Quindi preferisco Non attaccarle Quindi non lo spieghiamo a risorse Cioè almeno Non attacchiamo durante il video Poi magari da solo Più avanti Più avanti Quando saremo più forti Potremmo anche portare A livello 7 Speriamo Che non so cosa dia A livello 7 Cioè quando ho completato tutto Comunque da questa parte Che adesso vedete Che abbiamo Abbiamo cambiato moltissimo Dall'ultimo video che abbiamo fatto Batteria E perché comunque sto registrando In un altro posto Quindi la batteria Non la sto caricando In questo momento Quindi è un po' scarica Va bene Comunque state vedendo Che abbiamo Intanto 5 truppe diverse Rispetto a prima Che ne avevo solo una Perché penso di aver fatto Solo un video Su questo Villaggio qua Worship Sono a livello Sono a livello grado 11 Dall'ultima volta Sono stato un sacco Ho fatto un po' di fatica All'inizio Perché avendo Potenziando solo Le cose iniziali Gli altri Potenziavano le cose Un po' più avanti Le difese E io rimanevo un po' indietro Però adesso Che ho La torre cerchina 22 La mitra 22 Il mortaio Il 20 E comunque Difese Molto più forti Abbiamo anche Naggio e fiamme I cannoni I cannoni Esplosivi Abbiamo molte più difese Perché appunto Potenziando gli edifici E potenziando Nella Nella zona Dell'albero Genealogico qua Ogni potenziamento Potrebbe darti Anche una difesa in più Oltre Naturalmente A potenziamenti Extra A livelli extra Sono arrivato fino al Al terzo municipio Qua Sblocca Sala macchine Al 4 Però C'è il senso Quattro C'è la macchine Però naturalmente Ho sblocato fino a lì Giusto per avere Un po' più roba Anche per avere L'eroe Dottor Kavan Che mi dava Un sostegno Per le truppe E comunque Con queste difese qua Sono abbastanza Forte Perché quando mi attaccano Molto spesso Ci ritirano Perché appunto Non potendo passare Avendo Due difese al massimo Mentre si c'è La torre cerchini Che noi vediamo Venendo qua Ho veicolo sbarco al massimo Cannoniera al massimo Mitraietrice Torre cerchini E Attiglieria Insieme alle truppe Fucilieri Che sono al 22 Tutto al massimo Queste 6 qua Perché ogni cosa Al massimo Avrà lo sfondo d'oro Perché appunto Essendo al massimo È come se fosse una cosa Leggendaria E il resto Vedete comunque Potenzialmente Che ho fatto Fino avanti Nella fase 2 Non ho potenziato Praticamente niente A parte il cannone Che era un po' A livello basso Quindi a livello al 10 Quanto meno Vi dava un danno extra Poi naturalmente Io potrei Anche attaccare Forse Così Si posso fare un attacco Faccio un attacco Naturalmente ho fatto Una serie vittorie 5 per Quindi ho vinto 5 volte di fila Ho vinto 4 E questa era la quinta In realtà Questo è abbastanza forte E Naturalmente Mi darebbe un buono Stelle in più Ovviamente Adesso non so se vinco Perché questo è abbastanza Difficile Mi proteggo un po' Proteggio Perché Fanno un sacco di danno Io devo proteggere Le mie truppe Dagli vita E le altre fiamme Sono veramente tosti A livello alto Proteggi Proteggi tantissimo Ok Facciamo un sacco di danni Danneggiate Grazie Dai butta giù giù Il municipio La butta giù Ecco Perfetto Quanto meno Gli ho buttato giù A tutti e due Uno Abbiamo rimasto Ho fatto meglio io Grande Ho vinto Ho vinto di 3% Praticamente Di una percentuale leggera Perché praticamente Naturalmente Se tu fai A pareggio Con le sale macchine Tanto con la data stelle Ti giudica La percentuale distruzione Se anche quelle pari Ti giudica Quanto tempo Ci hai messo A distruggerlo E io naturalmente Con la percentuale distruzione Ho fatto 70% Lui è 61% Quindi sono più forte E sono stato più forte io Anche se comunque Il villaggio Avete visto Era abbastanza forte Era tosto Naturalmente adesso A livello 11 Grado 11 Le stelle Sono Ce le voglio di più Però do anche Più premi Se passi di livello E naturalmente Con le casse bonus Che ricevi Giornaliere Avendo Cioè Facendo stelle Che sempre stelle Puoi ignorarti Adesso dovremmo Potenziarci una cosa Io direi di potenziarci Visto che comunque Avendo 243.000 punti E il mortaio È a livello 20 Cioè Io potenzo un mortaio Dall'altra parte Potenzo un mortaio Anche da questa parte Coincidente Ma Chi lo so Comunque Avendo potenziato Il mortaio Fino a 4 tacche Io direi di potenziare C'è la tacca 5 Così almeno Avendo un mortaio Alla massima Facciamo i buchi Dappertutto Cioè Il mortaio Stende qualsiasi cosa A questo punto Perfetto Mortaio Potenziato Naturalmente Ci ha dato un mortaio In più Adesso abbiamo Sei mortai E con le scelte Qua in mezzo Con le Vedi Questa scelta Questo Cerchio viola Praticamente Mi ha fatto scegliere Cosa volevo Io scelto il cannone Perché il cannone Fa un botto di danno E avendo 4 cannone in più E tante robe Naturalmente Posso anche cambiare Con 100 gem Posso cambiare La scelta Tanto ne ho 9500 Quindi potrei farlo Ma Lasciamo il cannone Perché il cannone Avendo comunque Truppe Batterie Naturalmente Avendo comunque Truppe Che costano Che fanno Un botto di danno E Avere una difesa Molto forte Può incidere sul danno Appunto Perché se ci attacca Con i carri armati I carri armati Sapete che hanno Una vita enorme Avendo quei cannone Li Quei cannone Ti stendono I cannone In un colpo solo E Buono Almeno Anche quelli piccoli Fanno un sacco di danno Perché fanno Un botto di danno Poi loro E avendone 4 più Quello Che c'era qua Cioè avendone 3 più 4 che abbiamo Sbloccato In questa scelta viola Abbiamo 7 cannoni Che fanno Un botto di danno E quando ci attacca Naturalmente Faranno più fatica Ad entrare Perché Faremo più danno Noi Va bene Comunque Abbiamo i mortali Al 22 adesso Il prossimo Potenziamento Sarà Potenziarare Lanzafiamme A livello Massimo Che Penso che Se ci dovremmo Uscire Costa un po' Meno Un altro Un altro Baule Da aprire Ci da Di sicuro La possibilità Di farlo Che lo potenziamo A 4 tac E poi a 5 tac Quando avremo Abbastanza risorse Che comunque Abbiamo 7 7 Zone Potenziate Al massimo Perché comunque I mortali Al 22 Fanno un botto di danno E naturalmente Vedete che ho un pezzo di salute in più Del mortaio E questo vale per tutte le difese Per semplice il fatto che io Ho potenziato questo qua Che mi dà una salute in più Un 10% in più Quindi Per questo Naturalmente quando più lo potenziamo Più c'è della vita E noi abbiamo Abbiamo spruccato un altro Mortaio Quindi direi di potenzionarlo Direttamente Almeno qui Poi adesso Lo cambiamo Lo mettiamo in un punto Tattico Perché se lo mettiamo qua Ce lo ha detto con il fret Se invece lo mettiamo In un punto centrale Ci può fare quel danno Tipo qua Cioè Quando arriva qualcosa Lo colpisce In una maniera incredibile L'avversario Si può rendere Ancora più facilmente E noi possiamo Vincere la partita E quindi direi di metterlo Tipo al posto Di questa amica di attrice E questa qua La mettiamo qua Così Perfetto Così l'avversario Da questa parte Perché avendo potenziale Un po' Con sale e macchine Adesso ne abbiamo 3 Al 2 Diciamo che Costano Cioè hanno liberato Questa zona qua Questa zona di Di veicolo Da sbarco qua E quindi Ci possono attaccare Anche da questa parte E naturalmente C'è più spazio Quindi Quindi va bene Naturalmente C'è più probabile Che si attaccano Da questa parte qua Solo che Fanno più fatica Essendo molti Di antedifese addosso Perché comunque Attaccando da questa parte Anche se Deve fare tutta la strada Per decidere Sare le macchine È molto più È facile Secondo me Però Ehm Resta comunque difficile Serie di vittoria 6x6x Perché ho fatto Sono stato molto bravo Quindi Non mi Non mi riescono Ad attaccare Molto bene Gli avversari Quindi io Facendo la percentuale Possibile Dovrei riuscire Quasi sempre a vincere Spero Mancano nove giorni Alla fine stagione Non so se Alla fine stagione Resettano Io spero di no Oppure non lo so Vediamo Noi passiamo Noi passiamo di là Ok Naturalmente Sentite un po' Di confusione Ma Non posso farci niente Detto questo Io spero che questo video Vi sia piaciuto Ho fatto Detto il più possibile Ho cercato di essere Il più sintetico possibile Ehm Va bene E naturalmente Mi spiace di aver fatto Crash Royale Per quelli che me l'avranno chiesto Lo faremo la prossima volta Quando avremo altri bauli Detto questo Io vi invito A cercare un bel like Se l'avete ancora lasciato Un commento Quando dovete giro E iscrivete al canale E noi ci vediamo Domani con un prossimo video Ciao